OMS ha un suo ambiente di sviluppo che prima è un ambiente concettuale prima che fisico e quello che mi propongo in queste slide è quello di presentarvi come è fatto l'ambiente del resto voi avete già scaricato la console quindi in qualche modo vi siete resi conto di come è fatto però io qui vi illustro le sue parti nel dettaglio quando voi scaricate per esempio il il pacchetto di lavoro che che vi è stato caricato per il lavoro che dovrete cominciare a fare oggi vi compare mi compaiono dei folder delle directory non so come voi le chiamate in realtà in questo momento io li chiamo folders o anche directory e mi compaiono delle directory e diciamo che in OMS c'è una directory principale che è la directory di lavoro e sotto compaiono almeno quattro sotto directory la prima è simulazioni poi data poi output e poi distribution e andiamo ad una ad una a vedere che cosa contengono queste directory come vedete lì a fianco sono segnate anche asterisco punto sim asterisco punto luca e asterisco punto esp che sono appunto elementi dei tipi di simulazione o i dati che qua ho messo asterisco punto csv e che sono sia in input che in output perché questo significa che nelle vostre simulazioni voi metterete i dati in data e otterrete dei risultati in output sono diverse strategie per mettere i dati in input csv sta per comma separated value se vi interessa e dist invece contiene la distribuzione ovvero contiene jar file o le librerie di vario tipo che a seconda delle piattaforme rappresentano gli eseguibili quelli che chiameremo i programmi scusate che vengono poi eseguiti che cosa contiene la directory simulation voi avrete a che fare quasi esclusivamente con la directory asterisco punto sim però ce ne sono almeno altri due 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 tipi di file che si chiamano punto luca e asterisco luca e asterisco punto esp gli asterisco punto sim contengono sono dei file che poi andremo a vedere come sono fatti che contengono le simulazioni ovvero voi avete bisogno di un linguaggio di script per mettere insieme le varie componenti e questo linguaggio di script che è basato su un linguaggio che si chiama gruvi però è un sottoparte di questo gruvi è un domain specific language è molto semplice da imparare poi vedremo com'è fatto e luca è un calibratore cioè un calibratore è uno strumento che permette di far combaciare i dati di una simulazione di un modello con i da con dei dati sperimentali misurati della della stessa grandezza e quindi di calibrare di prendere i parametri le cose che possono variare all'interno del modello per far combaciare le due quanto è simulato con quanto è osservato ISP contiene e rappresenta la possibilità di fare simulazioni multiple di ensemble come si dice forse qualcuno che ha a che fare con un po' di meteorologia di fisica dell'atmosfera ha già sentito questo nome cioè si possono fare tante simulazioni della stessa o di più componenti per poi vedere il risultato complessivo ed eventualmente fare la media nella cartella folder o directory simulation potete avere varie simulazioni non una sola simulazione quindi potete avere vari file che contengono simulazioni diverse la cartella data come dice il nome stesso contiene i dati quello che qui è rappresentato sono i dati csv csv vuol dire comma separated value sono cioè dei dati che sono prodotti su un file separati da virgola per esempio quello un comma separated value tipico potrebbe essere quello di paperopoli che abbiamo già visto oppure i normali fogli elettronici anche salvano spesso in questi formati csv che poi possono essere letti per esempio in python come abbiamo imparato noi oms ha la sua convenzione per costruire i suoi file csv quando si salva in questo formato e ovviamente quindi c'è anche una componente che scriverà questi dati e anche una componente che legge questi dati l'output anche qui l'output può essere in formato csv ma per esempio nel caso dell'utilizzo di Richards quello che voi vedrete saranno dei file per esempio prodotti in un altro formato che si chiama netcdf che è un formato autoesplicativo complicato che però consente di mettere insieme certi dati di mettere insieme tanti dati in un unico diciamo involucro generale i file csv sono molto comodi perché si possono leggere si possono per esempio caricare in un foglio elettronico però ci sono alcuni modelli come per esempio il modello di Richards che produce grandissime quantità di dati e questi dati non sono facilmente leggibili e accessibili una volta che sono prodotti sotto formato csv invece altri formati appunto sono proprio costruiti perché i file siano più facilmente acceduti ci sono anche delle output strategies cioè nel simulation file voi potete scegliere tra varie strategie con cui ottenere output in forma diversa in realtà la scelta delle strategie dipende non solo in generale da costrutti da casi generali ma anche dal tipo di componente che voi usate vi ho già detto appunto che invece la parte distribuzioni contiene appunto i file jar i jar files sono dei file binari però indipendenti dalla piattaforma che contengono gli eseguibili di java in qualche caso per esempio su windows si possono essere prodotti anche dei file .dll che sono delle dynamic linked libraries o degli eseguibili scusate il tempo di oggi mi fa sbadigliare ho degli eseguibili appunto in questo caso appunto access sono degli eseguibili di windows queste sono le quattro librerie e le quattro cartelle fondamentali in realtà ci sono anche altre directory che noi mettiamo una in particolare è builds una è source e un'altra è docs docs contiene la documentazione adesso non mi ricordo più se di solito noi mettiamo docs oppure notebooks in questo caso io e il gruppo di persone che lavorano con me abbiamo scelto di usare praticamente in maniera esclusiva i notebook di jupiter per costruire la documentazione dei modelli quindi voi andate in docs vedete ci sono vari notebook di jupiter e questi vi guidano attraverso la preparazione dei dati di input la preparazione dei dati di output la visualizzazione dei dati in input la visualizzazione dei dati di output che è se vogliamo l'80% del lavoro e poi naturalmente anche che vi commentano eventualmente l'esecuzione dei programmi i programmi generalmente sono disponibili come vi ricordate in dist prodotti per esempio come un file .jar per cui per esempio concetta o chi per essa o io vi posso dire beh prendete questo jar e sostituite il jar all'interno di distribuzioni perché per esempio abbiamo modificato o aggiunto un modello tuttavia all'interno di OMS possono essere forniti anche delle componenti che sono presenti in codice sorgente in particolare questi vanno posti in source e dopo viene usato il jdk il java jdk per compilare questo source che va poi messo in builds quindi potete avere oltre alle quattro cartelle precedenti anche queste tre cartelle c'è un file di cui bisogna essere consapevoli ulteriore che è il file di configurazione questo è nella directory di lavoro del progetto e può essere usato ed è usato generalmente quando si vogliono per quello specifico progetto fornire degli particolari settaggi del sistema e questo per esempio come vedete sotto qui vedete un esempio che dice dove si possono trovare si trovano i file dove si trovano le simulazioni eccetera perché in realtà le cartelle che io vi ho mostrato prima sono le cartelle standard ma in realtà attraverso il file oms3.conf si possono si può come dire customizzare e adattare a esigenze personali la configurazione di OMS in particolare il file di configurazione contiene anche un'opzione che vedete per esempio questa scritta sotto che regola la quantità di memoria che qui è abbastanza modesta 256 megabyte, 128 megabyte assegnata al RAM che viene poi eseguito ci sono delle domande, delle questioni, dei dubbi, delle perplessità e se non ci sono domande allora ricordatevi questo ricordatevi che questa è la struttura delle cartelle sotto la cartella principale di OMS avete un file che contiene le simulazioni un file che contiene gli eseguibili un file che contiene gli input un file su un file sono cartelle non file cartelle che contengono gli output più quasi sicuramente una cartella che contiene le informazioni e due possibili cartelle che possono contenere il codice sorgente e il codice sorgente ed eventuali eseguibili che avete compilato tutto questo può essere configurato e cambiato però questa è la configurazione standard è stato necessario per questo grazie grazie Grazie.